Musica Offrire sistemi sempre più precisi diventando centro di riferimento per il mondo scientifico e industriale dell'imaging diagnostico, comparto tecnologicamente avanzatissimo della medicina che oggi consente di vedere il corpo umano dal di dentro, ma anche in un futuro non troppo lontano sarà in grado di varcare una nuova frontiera, quella della medicina di precisione, dove vedere sarà già curare. È il nuovo obiettivo del gruppo Bracco, leader nella realizzazione dei mezzi di contrasto, che in occasione dei dieci anni del centro ricerche con sede nel Canavese, ha chiamato a raccolta un premio Nobel e studiosi per discutere di innovazione e qualità della ricerca. Possiamo fare oggi della microchirurgia mini-invasiva basata sull'aiuto del mezzo di contrasto in casi che erano assolutamente impensabili anche solo dieci anni fa. Quindi grandissima crescita e grandissima crescita per il futuro. Noi riterminiamo che gli ultimi mezzi di contrasto, in particolare i mezzi di contrasto a base delle nostre microbolle per ultrasuoni, siano possibili sonde in un domani per colpire addirittura la molecola malata a livello molecolare, infatti si parla di diagnostica molecolare e immettere per esempio il mezzo curativo, quindi quello sarebbe veramente il punto di arrivo di questa lunga storia. Il futuro della diagnostica però passa anche attraverso la prevenzione, che coniuga potenzialità della chimica e medicina di precisione. Il nostro ruolo sarà quello di far tesoro da una parte di questi nuovi strumenti che sono ormai a disposizione, sia dal punto di vista della chimica ma anche per quello che riguarda la gestione dei dati, delle informazioni. Dall'altra anche quello di utilizzare sistemi intelligenti per la gestione dei dati e immaginare delle soluzioni diagnostiche più all'avanguardia rispetto a quello che abbiamo oggi. Innovazione dunque, ma per superare il gap scientifico del Paese, la sfida passa dalla collaborazione tra pubblico e privato. È uno degli obiettivi che mi sopposta, quella di riuscire a mettere a fattor comune le capacità di fare ricerca del pubblico, che sono eccellenti, con quelle del privato che ha in più questa spinta dell'urgenza. Bisogna avere la spinta dell'urgenza. Questo lo dico a tutti, ma in particolare al pubblico. Bisogna sapere che gli altri sono molto veloci. Noi dobbiamo essere veloci.